Buonasera, nuovo presidio questa mattina da parte dei lavoratori della Tradecco davanti al Comune di Imperia. Dipendenti e sindacati hanno protestato contro il mancato pagamento degli stipendi. Una situazione complicata tra azienda e comune dove a rimetterci sono sempre i lavoratori. Ad un certo punto ad incontrarli sono scesi anche il sindaco Carlo Capacci e l'assessore Nicola Podestà. I motivi del presidio di oggi? I motivi sono sempre gli stessi. Il mancato pagamento degli stipendi e non solo, ma anche delle assicurazioni private, delle cessioni del quinto e delle pensioni integrative. Quindi siamo nuovamente qui a manifestare sotto il Comune di Imperia perché essendo il Comune capofila e quindi deve sicuramente trovare una soluzione immediata a questi problemi che ho elencato prima perché i lavoratori sono esasperati. I lavoratori sono esasperati perché non hanno più i soldi proprio in tasca per riuscire a fare rifornimento ai mezzi per venire a lavorare. Non riescono a pagare gli affitti, non riescono a pagare neanche il cibo che devono comprare i soldi perché è quasi due mesi che non percepiscono lo stipendio. La colpa di tutto questo sicuramente è da imputare in parte alla società che sicuramente ha dei problemi al suo interno ma la parte maggiore sicuramente è da imputare alla parte politica e alla parte amministrativa che ha voluto portare avanti questa gara d'appalto a tutti i costi anche sapendo che i sindacati e dei tecnici esterni avevano praticamente trovato numerose anomalie su questa gara d'appalto e i dubbi erano forti e sono voluti andare avanti lo stesso a tutti i costi e i risultati adesso si vedono. Quindi noi chiediamo a tutti i sindaci dei 35 comuni e la sua eccellenza il prefetto di trovare una soluzione immediata perché sicuramente gli operatori sono esasperati quindi si deve trovare una soluzione immediata perché non si può andare avanti così. Poi mancano i pagamenti, i documenti non sono in regola e con tutti i problemi conseguenti. Il DURC non è che non è in regola, è sotto osservazione quindi non so che problemi ci possono essere quindi hanno detto che riusciranno a pagare entro 4-5 giorni forse adesso perché si pagano direttamente decurtando i soldi dalla cifra che devono versare alla tradeco però è una soluzione temporanea noi vogliamo una soluzione definitiva a tempi brevi. Sembra un cane che si morde la coda e a rimetto ci sono i dipendenti. A rimetto ci sono i dipendenti e sicuramente poi i servizi per la città quindi anche i cittadini dei 35 comuni li risentiranno perché lunedì è stato confermato lo sciopero e quindi sicuramente sono i lavoratori in primis e i cittadini in secondo che pagheranno queste scelte fatte in modo scelerato. Io capisco perfettamente le ragioni dei lavoratori che sono due mesi, quasi due mesi che non percepiscono stipendio noi come amministrazione stiamo facendo quanto prevede il codice degli appalti che purtroppo prevede dei tempi che noi dobbiamo rispettare. L'amministrazione comunale si sostituerà all'azienda nel pagamento degli stipendi con un certo ritardo che appunto dipende dalla normativa e non dalla nostra volontà. Noi quello che dobbiamo fare come atti e come determini dirigenziali lo abbiamo fatto. Potrebbe essere presa in considerazione a questo punto un'estromissione della Tradeco? Diciamo che è un pensierino, lo stiamo facendo perché è una situazione che non è sostenibile, non è decorosa e non è accettabile. Ora, poi tradire il fare c'è di mezzo il mare che abbiamo qua di fronte, ci sono i contratti, ci sono le norme non è una cosa semplice e poi soprattutto esporrebbe il Comune del Comprensorio sicuramente a delle richieste d'anni. Quindi è una cosa da valutare con un attimo di calma, però un pensierino lo stiamo facendo. Tensione politica alle stelle a Sanremo dove il sindaco Maurizio Zoccarato a poche ore dalla sua decisione di non ricandidarsi ha licenziato dalla giunta l'assessore Umberto Bellini. Un colpo di scena maturato dopo una recente cena di maggioranza dove le scintille tra i due non sono mancate. Intanto è partita la corsa per scegliere il nuovo candidato di Forza Italia. Sentiamo. Sarà molto probabilmente Franco Solerio il candidato sindaco di Forza Italia alle prossime elezioni comunali di Sanremo. Dopo il passo a lato di Maurizio Zoccarato è infatti partita la corsa per trovare un nome da proporre agli elettori e sembra che a contendersi questo ruolo siano in tre. L'assessore uscente Solerio con alle spalle una lunga esperienza non solo in comune ma anche in provincia. Poi Antonio Fera che in questi 4-5 anni ha retto l'assessorato all'ambiente fronteggiando anche numerose emergenze e l'assessore provinciale Cristina Barabino che darebbe un tocco di rosa. Secondo le voci di corridoio Solerio sarebbe però in vantaggio ma nulla è ancora stabilito. L'annuncio dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Al lavoro c'è infatti una commissione che deve valutare le varie possibilità. Intanto oggi è scoppiato il caso dell'assessore Umberto Bellini, cacciato dalla giunta dal sindaco Zoccarato. Si è trattato dell'epilogo di un rapporto che in questi anni ha offerto qualche contrasto. Il primo cittadino non ha infatti gradito i numerosi mini interventi attuati da Bellini a discapito di progetti più ampi. Da parte sua Bellini respinge le accuse dichiarando di aver agito nell'interesse dei cittadini andando incontro alle loro richieste. Fatto sta che la sua estromissione dalla giunta a tre mesi dalle elezioni sembra essere stata una lezione anche per non far godere del ruolo di assessore a Bellini nel momento di campagna elettorale. Il clima è quindi sempre più teso all'interno della coalizione che in questi anni ha governato Sanremo. Sarà questo l'ultimo colpo di scena o ce ne saranno altri? Politica in fermento anche in consiglio regionale dove è nata una nuova polemica tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. Tutto è nato dalla permanenza in aula degli alfaniani che ha permesso alla maggioranza di mattenere il numero legale durante la riunione di consiglio. Sentiamo. Prove di nuova maggioranza in consiglio regionale tra il Partito Democratico ed il nuovo centrodestra. I due partiti che governano insieme a livello nazionale in diverse realtà locali come il Comune d'Imperia dove recentemente c'è stato il passaggio nel NCD degli esponenti del laboratorio potrebbero farlo anche in regione. Non si tratta di un'alleanza alla luce del sole ma di una serie di prese di posizioni che non possono passare inosservate. L'ultimo episodio si è verificato in occasione della riunione dell'assise regionale dove il numero legale è stato mantenuto solo grazie alla permanenza in aula dei rappresentanti del partito di Alfano tra cui l'imperiese Alessio Sasso mentre Forza Italia era uscita proprio con l'intento di far saltare la seduta. Dure le critiche dei forzisti che hanno puntato il dito contro gli ex colleghi del PDL mentre gli alfaniani hanno parlato di senso di responsabilità verso la pratica oggetto di discussione. Non è la prima volta che succede, succede in commissione spesso, questa maggioranza ormai a pezzi non riesce neanche a avere il numero legale autonomo e deve sempre chiedere come oggi per esempio la stampella del nuovo centrodestra che ormai è funzionale a livello nazionale, romano ed è funzionale anche qui a livello locale. Ho fatto anche una lettera oggi per chiedere che vengano messi nella parte sinistra dell'emiciclo del Consiglio perché è impossibile, hanno votato il bilancio, è impossibile, è vergognoso che continuino a fare da stampella la maggioranza. Alessio Sasso da parte sua non ha escluso a priori che alle prossime elezioni ci si possa presentare agli elettori con un contesto politico diverso rispetto a quello di quattro anni fa. Tutto ruota intorno al Partito Democratico, insomma mi potrebbe anche dolere doverlo dire ma è così, ruota sia a livello nazionale che a livello regionale. L'asse su cui si devono formare le alleanze vincenti appare inegabilmente quello del Partito Democratico. Non ci sono state avance, sicuramente ci sono dei contatti, delle relazioni che potrebbero anche sfociare nuove aggregazioni in vista delle prossime elezioni. L'assessore regionale alle infrastrutture, Raffaella Paita, si presenterà alle primarie per la candidatura alla presidenza della regione. Con un anno di anticipo esce così allo scoperto il primo dei protagonisti delle elezioni regionali del 2015. Io voglio parlare chiaro ai Liguri, lo voglio fare, ripeto, mettendoci la faccia. L'assessore regionale alle infrastrutture, Raffaella Paita, è uscita allo scoperto, a conferma delle molte indiscrezioni che si rincorrevano già da tempo, ufficializzando la propria volontà di presentarsi alle primarie per la candidatura alla presidenza della regione nel 2015. In pratica ci si sta già preparando ad una possibile staffetta per il dopo burlando. Penso che sia giusto dire apertamente qualcosa che in questi anni è stato raccontato dai giornali, come retroscena, come veline, ma mai direttamente da me, perché ho invece avuto un percorso di maturazione rispetto a questa decisione. Oggi credo che è terminato il congresso del Partito Democratico, si apra una fase diversa, tutti i candidati hanno detto che ci saranno le primarie, e quindi io penso che sia giusto a questo punto dire che è un grande trasparenza, con grande coraggio, che quel percorso io lo voglio fare e mi voglio mettere in gioco in prima persona. Tra i possibili uomini che potranno comporre la squadra ci sarà anche il sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, che la Paita aveva già sostenuto alle recenti primarie per la segreteria regionale del PD. Sindaci, amministratori, non costruirò nessuna squadra precostituita, ci sono come dire le persone che sul territorio danno un contributo, sono eroi questi sindaci, lavorano con bilanci che non sono come dire, con i vincoli del patto di stabilità, hanno uno o due dipendenti e devono andare a tappare buche, magari gestire servizi scolastici, cioè queste sono le persone che conoscono meglio di chiunque altri problemi che ci sono in Liguria. Mi piace partire da una solida base di centrosinistra dove il PD abbia una funzione chiave baricentrica. Ma l'umore ingiunta dopo questo annuncio? Secondo l'assessore Paita no, anzi avrebbe già ricevuto da alcuni colleghi attestati di stima. Io penso di no e lavorerò perché questo non avvenga, perché con i miei colleghi ho sempre avuto un percorso molto importante, anche nei momenti di difficoltà, quando era facile dividersi, noi invece ci siamo uniti ancora di più. E questo lo dobbiamo anche alla capacità di leadership del nostro Presidente che ci ha tenuto tutti uniti come squadra. Il Consiglio regionale Ligure ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che vedeva come primo firmatario il consigliere vicepresidente del Consiglio, Massimo Donzella, relativo al rilancio dell'agricoltura e della sevicoltura e alla salvaguardia del territorio rurale. Il documento indica come prioritaria per fronteggiare il rischio di abbandono dei piccoli appezzamenti, una progressione, riduzione degli oneri fiscali ed una defiscalizzazione dei carburanti agricoli senza conciò trascurare l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. A Monta, 50 milioni di euro, il bando che la Regione aprirà ora per lo sviluppo rurale. Si tratta di contributi, alcuni dei quali a copertura anche totale degli interventi, che serviranno anche per il ripristino di strade e muri a secco danneggiati dalla recente ondata di maltempo. Sentiamo. Correse, parliamo di cura del territorio perché tra pochi giorni ci sarà un'opportunità molto importante in Liguria. Sì, la Regione utilizzando i residui del vecchio piano di sviluppo rurale e le opportunità che hanno dato i regolamenti comunitari di transizione che fondamentalmente dicono di poter utilizzare le nuove risorse che dovrebbero partire dal fine 2014 fino al 2020 utilizzando questi due meccanismi è riuscita a mettere insieme un po' di risorse per aprire un po' di misure in un momento difficile legate soprattutto a dissesto da eventi atmosferici. Quindi il 6 di marzo entreranno in vigore una serie di banti che mettono in moto circa 50 milioni di euro, quindi una grossa cifra che sono contributi che potranno essere utilizzati sia per quanto riguarda aziende agricole giovani che si vogliono insediare quindi giovani agricoltori sotto i 40 anni aziende agricole che vogliono investire ma anche, come hai detto bene te, mantenimento e cura del territorio quindi ci sono due misure molto importanti che sono quella per la possibilità di rifare i muretti a secco caduti e quella per intervenire sulle strade interpoderali che a seguito delle grosse piogge sono difficilmente raggiungibili ormai le zone interne, le zone delle aziende agricole. Quindi cade proprio in un momento appropriato dopo i danni del maltemo? Certo, cade in un momento di necessità per il mondo agricolo ma anche di necessità per il territorio in generale per tutto quello che è successo anche perché la misura che riguarda il rifacimento dei muretti a secco è una misura che riguarda sia le aziende agricole ma anche i privati diciamo che è una misura che dà diritto a 94 euro a metro quadrato di rifacimento di muro a secco però con la domanda che può essere fatta da chiunque è proprietario di un terreno dove è caduto il muro fondamentalmente quindi limiti non ce ne sono e la possibilità quindi di fare le domande è aperta a tutti c'è la possibilità di ricostruire un patrimonio che è quello nostro dei muretti a secco che a seguito degli ultimi eventi è sicuramente in una grossissima difficoltà Tra l'altro contributi che possono coprire gran parte dell'intervento se non talune volte anche tutto Sì, diciamo che soprattutto per quello che riguarda il rifacimento dei muretti a secco e il rifacimento delle strade interpoderali Parliamo di contributi per le strade che vanno all'80% per i consorsi e al 90% per gli enti pubblici quindi un contributo molto alto Per i muretti a secco diciamo che è un contributo al 100% nel senso che vengono dati 94 euro al metro quadrato di rifacimento che copre abbondantemente il prezzo del rifacimento quindi è un contributo diciamo al 100% L'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Renata Briano su richiesta del sindaco di Imperia Carlo Capacci effettuerà un sopralluogo presso la Frana di Monte Grazie L'assessore giungerà presso il comune di Imperia domani alle ore 11 dove sarà accolta da alcuni membri della protezione civile imperiese per proseguire poi verso la frazione con il sindaco il vice sindaco Giuseppe Zagarella e l'assessore all'ambiente Nicola Podestà La Giunta Comunale di Imperia ha deliberato in merito all'utilizzo della rete wifi installata presso Palazzo Civico e agli indirizzi di gestione per la Tari L'amministrazione intende infatti procedere alla determinazione del nuovo quadro tarifario sulla base di specifiche rivelazioni effettuate sul territorio evitando le situazioni verificatesi dall'applicazione delle tariffe Tares L'esecutivo cittadino nella sua seduta di questa mattina ha poi anche approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione, dell'illegalità e l'adesione ai giochi studenteschi A Sanremo la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi dovuta dai commercianti potrà essere rateizzata senza sanzioni o mora L'amministrazione comunale ha infatti deliberato la possibilità di frazionare il pagamento della Tares in due rate uguali senza l'applicazione di sanzioni o di interessi di mora Gli importi dovuti superiori ai 500 euro potranno così essere versati il 28 febbraio e il 30 aprile Dura presa di posizione da parte della Segreteria Provinciale del Sindacato Nuova Federazione Autonoma Autonomi di Polizia in merito alla possibile chiusura di alcuni presidi di polizia sul territorio in particolare della postazione della Polfer all'interno della stazione ferroviaria di Sanremo Gli autonomi di polizia considerano gravissime le conseguenze di questa possibilità che non assicurerebbe più alcun controllo nella stazione di una città a vocazione turistica come Sanremo Dopo il ripristino della circolazione ferroviaria lungo la linea Genova 20 Miglia interrotta dal 17 gennaio per una frana nel comune di Andorra da domani l'ordinaria offerta dei treni tornerà di nuovo visibile su tutti i sistemi informatici di Trenitalia Da domattina gli utenti potranno quindi comprare normalmente i biglietti per i treni della Genova 20 Miglia L'assessore regionale ai trasporti Enrico Vesco ha voluto inviare un ringraziamento a Trenitalia per aver rimosso velocemente il treno deragliato e aver quindi ripristinato la circolazione sulla linea Genova 20 Miglia L'assessore contestualmente ha voluto ringraziare anche i pendolari per il senso di responsabilità mostrato e in particolare i comitati del ponente Ligure che con suggerimenti e segnalazioni hanno dimostrato una disponibilità a collaborare e hanno consentito di alleviare molti disagi ai viaggiatori E' ripreso oggi il maxiprocesso contro l'andrangheta nel ponente Ligure che vede alla sbarra i 36 imputati dell'operazione La Svolta che il 3 dicembre del 2012 portò in carcere 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso In apertura il 37enne Vincenzo Marcianò ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee sul suo rapporto con uno degli imputati Federico Paraschiva mentre il maresciallo camplese incalzato dal pubblico ministero Arena ha riferito di altre intercettazioni telefoniche e ambientali In particolare le domande del pubblico ministero hanno fatto riferimento ad eventuali collegamenti tra le organizzazioni di Bordighera e Vallecrosia La seduta pomeridiana ha visto gli interventi degli avvocati difensori Magher e Moroni legali di Vincenzo Marcianò, 66 anni, e dell'ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino La polizia di Frontiera tratto in arresto un marocchino di 27 anni evaso dagli arresti domiciliari a Sanremo per violenza sessuale L'uomo era stato arrestato nel novembre del 2012 in esecuzione di una custodia cautelare dopo circa un anno era passato dal carcere agli arresti domiciliari dai quali aveva approfittato per evadere. Fermato dalla polizia a bordo di un treno proveniente dalla Francia aveva esibito una carta d'identità rilasciata dal comune di Sanremo ma la fotografia, anche se somigliante, non ha convinto gli agenti di polizia Infatti il documento d'identità è risultato poi appartenere al fratello residente appunto a Sanremo presso la cui abitazione avrebbe dovuto scontare la pena Lo straniero è stato tratto in arresto e condotto così presso il carcere di Inqueria Ad opera della polizia di frontiera in manette è finito anche un tunisino di 30 anni pregiudicato per vari reati controllato mentre faceva ingresso dalla Francia privo di validi documenti Dopo accurati approfondimenti è risultato che lo straniero era ricercato in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel mese d'ottobre dello scorso anno dal tribunale di Ragusa per violazione della legge sugli stupefacenti L'uomo infatti acquistava in campagna ingenti quantitativi di eroina che spacciava poi in diverse aree della Sicilia Al termine delle formalità lo straniero veniva tratto in arresto e associato al carcere di Sanremo I carabinieri di Ventimiglia hanno messo fine alla fuga di Alessandro Dogaru un romeno di 59 anni evaso dagli arresti domiciliari da Annagni provincia di Efrosinone per furto aggravato I carabinieri di Annagni dopo aver scoperto l'evasione hanno diramato un allarme arrivato alla compagnia dei carabinieri di Ventimiglia pensando che l'evaso potesse dirigersi oltre Alpe Sono stati così attivati diversi posti di blocco sulle strade che conducono in Francia infatti il fermo è avvenuto intorno alle 16 di oggi alla barriera autostradale della città di Confine dopo le formalità di rito presso la caserma di Ventimiglia è stato condotto al carcere di Imperia ed ora facciamo una brevissima pausa fra poco Andiamo avanti Un numeroso pubblico ha partecipato ieri presso il Teatro dell'Opera del Casino di Sanremo all'appuntamento con i martedì letterari in collaborazione con l'Accademia ISA e la Comunità Religiosa Islamica è stato affrontato il tema interreligioso Oriente e Occidente, Sacralità e Potere l'ultimo califo a Sanremo Vediamo I martedì letterari del Casino di Sanremo in collaborazione con l'Accademia ISA e la Correis Italiana Comunità Religiosa Islamica hanno presentato nel Teatro dell'Opera un evento interreligioso Oriente e Occidente, Sacralità e Potere l'ultimo califo a Sanremo Forse non molti in Italia sanno che l'ultimo sultano e califo dell'impero ottomano dunque l'ultimo califo della civiltà islamica dopo l'esilio dalla moderna Turchia ha trascorso i suoi ultimi giorni proprio nel nostro paese in particolare a Sanremo Ed è stata proprio questa città ad ospitare un evento che ha preso spunto da un singolare episodio storico che ha segnato la fine di un'era di oltre 14 secoli per riflettere di spiritualità e attualità fra Oriente e Occidente con ospiti d'eccezione dall'Italia e dalla Turchia Hanno partecipato infatti padre Alberto Fabio Ambrosio dell'Istituto Domenicano di Istanbul Kenan Gursoy, ambasciatore della Repubblica di Turchia presso la Santa Sede e l'imam Ia Palavicini vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana che ha illustrato la sua opera dentro la moschea L'incontro culturale è stato visto anche da una prospettiva storica sul califato ottomano proprio attraverso gli occhi di un musulmano turco che vive in Italia è impegnato nell'ambito dell'educazione interculturale un punto di vista storico che si è alternato a quello di un frate domenicano che vive in Turchia dove ha approfondito il sufismo la mistica islamica e il dialogo tra Oriente e Occidente Questa esperienza del dialogo interreligioso di un musulmano europeo si è poi conclusa con la tavola rotonda attraverso un intervento su califato e il sufismo Prima di passare dalle parole alle melodie del gruppo Sukha Nessamble musicisti musulmani italiani hanno eseguito brani di diverse tradizioni utilizzando la musica come espressione della spiritualità e veicolo di comunicazione tra popoli, culture e religioni differenti musicisti musulmani italiani 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 Equilibrismi, cose da donne, questa è l'iniziativa prevista per domani alle ore 13 presso la Sala Consigliare a Palazzo Civico d'Imperia. Un evento allestito in occasione della Festa della Donna organizzato grazie alla sinergia tra gli assessorati alle pari opportunità e ai servizi sociali e attività educative. Sabato prossimo alle ore 16 presso l'Aula Consigliare del Palazzo della Provincia si terrà una conferenza dal titolo per una storia politica delle donne tra 800 e 900. L'appuntamento organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dalla provincia vedrà l'intervento della relatrice Elisabetta Tonizzi. Secondo appuntamento del CAI di Imperia domani alle ore 21.15 presso l'Aula Magna del Polo Universitario con la videoproiezione dei colori della Bolivia di Emanuela Ricci e Marco Zatt. L'obiettivo della proiezione è quello di portare lo spettatore a calarsi in quella realtà così lontana dalla mostra ma nello stesso tempo molto affascinante e di gustarsi la bellezza della natura e della montagna. Primo concerto del mese di marzo per l'Orchestra Sinfonica di Sanremo che dedicherà tutti i concerti alla memoria del maestro Claudio Abbado scomparso recentemente. Domani alle ore 17 presso il Teatro dell'Opera del Casinola Sinfonica diretta da Bruno Santori si esibirà in Mitologie, Arti e Etnie dei Grandi Compositori. Prosegue la serie di presentazione dell'ultimo libro del giovane scrittore sanremese Daniele Sirielisse. Il nuovo appuntamento sarà venerdì alle ore 17 presso la biblioteca prosiana in via Cavour a Ventimiglia. Ed ora andiamo insieme a vedere com'è la situazione lungo l'autostrada dei Fiori. Questi cantieri sul tratto della 10 savonano a confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 3 a domenica 9 marzo. In direzione Francia careggiata a nord, Traspotorno e Feglino, careggiata a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta, da martedì a giovedì anche notturno. In direzione Genova careggiata a sud, trammentone e barriera di confine, riduzione della careggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza nella zona Belvedere Latte, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Arma di Tagio ed Imperio Ovest riduzione della careggiata per il ripristino dei cordoli al viadotto San Lorenzo. Da martedì a venerdì solo diurno. Tra Viglino e Spotorno scambio di careggiata per il rifacimento della pavimentazione e bonifiche alla pavimentazione con conseguente chiusura dell'area di servizio Borsana Sud, da martedì a giovedì anche notturno. E riduzione di careggiata per bonifiche urgenti alla pavimentazione, da mercoledì a venerdì solo diurno. Ed ora le previsioni meteo a cura di ARPA al Meteo Liguria. Domani, giovedì 6 marzo, sulla Liguria si instaura una progressiva rimonta anticiclonica che garantisce una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso. Umidità sui valori medio-bassi 20 settentrionali fino a moderati solo localmente forti e rafficati. Mare in aumento fino a mosso nel corso della mattina. Dopo domani, venerdì 7 marzo, la struttura anticiclonica si irrobustisce ulteriormente e mantiene tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Temperature massime in aumento. Umidità sui valori medio-bassi 20 settentrionali tra deboli e moderati in rapida attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare in rapido calo fino a poco mosso. E' proprio tutto. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una felice serata.